L'installazione di cyberware resta una procedura invasiva e pericolosa che può essere eseguita solo da specialisti qualificati, i bisturi. Vai, installami il peneradio! Ma quello, in retromarcia l'ho messo sotto! Voi sicuramente avete... Cinque, cinque ho messo sotto un uomo in retromarcia e lui era davanti! Quella c***a c***a! Sette... Ma cos'è? Ma cos'è? Sei, Kingdom Come Deliverance aveva ste cose! Cinque, non sta muovendo il labiale! Magari parla dal c***o! Questa parte qua è proprio bella! Quattro, vedeva gli stessi errori di prima! Emma l'ha ripetuto! Oh, piccolo! Sparagli! Non ti ci fa sparà! Nemmeno mi ci fa avvicinà all'aurea! No, no! Ragazzi, i bambini hanno un'aura d'energia intorno a loro e l'energia degli innocenti che ti impedisce... Bastardo di un bambino! Ma andiamo dove c***o vuoi! Mi fai iniziare a sparare qualcuno e l'uomo comincia a zonfare le macchine qua! Oh, grazie! Devo andare! Sogli da c***o, forza p***a! Oh, mi sono urti i coglioni! Che? Questi droni! Mo sono arrivati i droni! Non ci sono paragoni! Oh, mo si! No, scherzavo! Vami i soldi! No, no, no! Aspetta, aspetta! Stavo detto di accettare! Aspetta, aspetta! Aspetta! Non vuoi, non vuoi! No, scherzavo! Non vuoi! Non mi fai così! Le hanno disattivate perché siamo entrati noi! Scusa, non sapevo questo! Cioè, tu entri da questi! Loro ti disattivano le torrette per farti passare, tu ne rompi una! È normale che ti sparaglie! No, semplicemente volevo... Sei, sei! Ma le vogliamo togliere quelle scarpe? Quando vedete le pen ripiedi sca... Guarda che bello! No, 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 no! No, 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 no! Porca di quella puttana! No, 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 no! Sette! Nove! Nove! Perché c'è il tiro dell'unicorno di Peggle sulle armi! Fermi! Non ho memoria di questo cosa! Dove cazzo siamo? Dove è saltato? Cosa è saltato? Non c'era niente da saltare! Tu e' il braccio, no? No! Ma perché? Facciami il culo, Mertina! Vaffanculo, almeno un bricoione! Che c'ha sull'abbraccio 13? Porta pure Iella, Gili! Sì! O che credo che me la caverò! No! No, quelle chiave ero! Ci fanno tutti l'occhiolino! Se ci si volesse l'ingroppa tutti! Allora sei pronto a iniziare o no? Abbassa! Da 8 vai al 7! Oh! Ah! 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 E' quello cattivo! Quello che corre! Ehm... Perché c'è un problema all'accoppiatore! Vedi? Gli hanno cagato sul motore! Non con solo? Vedi?! Non con solo? C'è un problema? Vedi? Vedi? Vedi... Vedi?